Amici di LeccoFM siamo con Simona Bartolena che è la curatrice della mostra I macchiaioli che fino ad oggi 19 di gennaio è qui in mostra a Palazzo Paure. Allora io chiedo alla dottoressa anzitutto come nasce l'idea di creare a Lecco una mostra sui macchiaioli? La mostra fa parte di un trittico sulla pittura dell'Ottocento italiano che era iniziato l'anno scorso con l'Ottocento Lombardo, quest'anno abbiamo pensato alla grande rivoluzione macchiaiola, l'anno prossimo faremo la scapigliatura. In questo trittico di indagine sull'Ottocento i macchiaioli hanno ruolo di grande rilievo perché sono stati uno dei movimenti più importanti dell'Ottocento italiano, quindi è stato doveroso passare da loro in questa indagine sulla scena italiana del XIX secolo. Ecco, un successo questa mostra a Lecco, ci vuole dare magari lei proprio che è la curatrice qualche numero, questa gente si aspettava di meno, di più, perché comunque è una mostra importante, però l'arte sappiamo sempre che è un tasto delicato a Lecco ma in tutta Italia. Siamo molto contenti, non ho ancora i numeri finali ma so che si avviava verso i 10.000 visitatori, per Lecco un ottimo numero per una mostra di questo tipo, anche perché non c'è diciamo uno storico sull'Ottocento, sulle mostre dell'Ottocento ci sono state grandi mostre in passato, adesso però c'è una continuità maggiore nell'organizzazione delle mostre, quindi mi sembra che la scena alle chiese si stia molto muovendo non solo per questa mostra ma per una serie di iniziative che certamente portano un movimento visitatore. So che la mostra è stata molto apprezzata e questa più che numeri a me interessa questo, le critiche positive, l'apprezzamento del pubblico, il fatto che sia piaciuta e quindi è stata una bella soddisfazione, sono molto contenta. Quali sono le difficoltà anche per un'esperta come lei per realizzare una mostra di questo tipo? Eh non sono poche, bisogna fare i conti con molte cose, il budget finanziario ovviamente e poi bisogna, la mostra si deve pensare su più piani, non sono soltanto delle opere esposte alle pareti, bisogna pensare a cosa si vuole raccontare, perché la mostra è un racconto, se non c'è racconto non funziona, quindi il contattare i vari collezionisti che so avere queste opere, i musei, convincere anche i prestito agli enti pubblici, insomma la mostra è un lavoro impegnativo e non ci lavora una sola persona, quindi ci lavora una squadra di persone. Il Palazzo delle Paure è già adeguato per le mostre, ha già comunque un'illuminazione corretta, le pareti, quindi è più facile la fase dell'allestimento, è più complessa quella della preparazione della mostra. Quali sono i quadri più di spicco che ci vuole far notare? Ce ne sono i due generi, ci sono i capolavori come i soldati di fattori nella stanza della storia, come i quadri di Lega, diciamo quelli più noti come storicità e come visibilità, e poi ci sono i gioielli, le chicche, come questo piccolo Sernesi che sta qua dietro a me, che non è un quadro noto ma è un piccolo capolavoro. Ecco, nella mostra si alternano le due tipologie di quadri di spicco e a me piacciono molto quelli da piccola scoperta, ancora più che quelli che arrivano poi da grandi musei e quindi sono già un pochino più conosciuti. Ecco, allora già che siamo qui ci dice qualcosa su questo Sernesi? In realtà credo che sia uno dei miei quadri preferiti della mostra, proprio in virtù della sua straordinaria semplicità, questo scorcio di nulla della costa toscana, a Castiglioncello, a Punta Righini, due sterpaglie, due sassi, con poche pennellate, poche macchie di colore, nel perfetto spirito macchiaiolo, Sernesi è riuscito a darci senso proprio atmosferico della costa toscana in cui lui lavorava, quindi è l'esempio proprio della semplicità apparente della pittura macchiaiola, questa banalità del quotidiano che loro sapevano catturare nei quadri. Bene, grazie. Allora noi andiamo a vedere anche l'altro quadro che ci ha consigliato e poi la lasciamo alle sue faccende. Grazie mille. Grazie a voi, grazie. Ok, dicevamo, è la stanza più grande con tantissimi quadri di cui lei adesso ci dà un assaggio. Sì, forse la stanza più significativa, forse da un certo punto di vista della mostra, è la stanza dedicata alla pittura di storia, anche perché c'è una parete straordinaria di soldati di Giovanni Fattori, che è un po' quello che uno si aspetta quando vede la pittura di macchiaiola. La cosa molto interessante, che si evince bene dai quadri che abbiamo esposto, è che i macchiaioli non dipingono risorgimento per eroi o per grandi battaglie, ma la banalità, la semplicità del quotidiano emerge anche lì. Quindi la lettera letta da un soldato nel campo, la ronda, i soldati che guardano, le reclute che guardano il mare, momenti di vita quotidiana della vita dei soldati del risorgimento, che Fattori risolve con uno stile pittorico straordinario. Quindi in quella parete c'è buona parte, diciamo, dei capolavori della mostra, ma anche nelle tavolette più piccole sparse in giro, di piccoli paesaggi, di piccoli sguardi sulla campagna, si percepisce proprio la volontà dei macchiaioli e della loro rivoluzione pittorica. Invece per quanto riguarda le prossime mostre che da lei saranno organizzate qui a Palazzo Paure? Allora, da me personalmente la prossima sarà a settembre dell'anno prossimo e sarà la terza di questo tritico sull'Ottocento. Alla fine, dopo lunghe meditazioni per varie ragioni, ho proposto la scapigliatura, che è un movimento che tra l'altro ha anche forti interessi sul territorio, perché ci sono stati scapigliati che hanno vissuto in zona e quindi torniamo verso il nord, torniamo in Lombardia, torniamo vicini anche a Lecco e indagheremo un movimento che non è solo pittorico, questo credo che sia molto interessante, perché la scapigliatura è letteratura, è musica e la mostra giocherà anche su queste altre discipline, quindi sarà una mostra molto diversa da questa dei macchiaioli.